Buon appetito! Buone notizie, infatti abbiamo davvero una bruttissima notizia sulla nuova stagione e sull'evento Doomsday, infatti da pochissimo tempo è stato annunciato il prolungamento di nuovo sia dell'evento sia della nuova stagione. Quindi prima di cominciare vi dovete essere un bel hack, scrivervi e attivare la campagna delle notifiche per essere sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, le regalo skin o pass battaglia. Infine conditi questo video tutti i miei due amici, almeno anche loro sanno le nuove date di arrivo della stagione e dell'evento Doomsday. Infatti questo video non ci doveva essere, appunto è arrivata notizia pochissimi minuti fa, vi riporto subito questo video. Appunto Fortet ha mandato un messaggio tramite il suo profilo ufficiale, sia il profilo di Fortet ufficiale, appunto ha mandato questo nuovo articolo. Nuovo articolo appunto che ci va a dire che l'evento Doomsday sono stati inviati. Ecco il motivo, purtroppo il motivo non è colpa dell'Epic Games questa volta, ma è colpa di quello che sta succedendo in America in questi giorni. Cosa probabilmente già saprete dai social media, dai giornali e che non vi resto qui a spiegare un'ennesima volta ancora io. Per tutte le rivolti che stanno creando in America. Quindi l'Epic Games è costretta a rinviare la stagione, infatti come scrive anche l'articolo, l'evento in diretta e il dispositivo, cioè il Doomsday, sarà posticipato a lunedì 15 giugno. Quindi rimanete aggiornati, iscrivetevi, attivate la campanella per essere aggiornati sul prossimo evento. Quindi l'evento vi farà il 15 giugno, mentre il lancio della nuova stagione sarà posticipato a mercoledì 17 giugno. Ci rendiamo conto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questi tempi difficili. Epic Games. Quindi purtroppo, come già detto, non è colpa di Epic Games il rimando, il rinvio per la seconda volta consecutiva di questa stagione. Ovviamente stanno rinviando un po' tutto, questo sta succedendo in America. Quindi siate pazienti, la season appunto sarà il 17 giugno. Io sarò in live, iscrivetevi, attivate la campanella, fate inserire qui sotto i commenti cosa ne pensate, ovviamente tra poco cambierà anche il countdown game. Se il video vi è piaciuto vi ricordate di essere un bel like, iscrivervi e attivare la campanella utile per essere sempre aggiornati su questi tipi di video. E le vediamo con lo skin o per la battaglia. Noi ci vediamo a un prossimo video, o più tardi con il video dello shop, o domani mattina. Bella, bella.